La meta di oggi si trova sopra l'abitato di Ono San Pietro, ai piedi della Concarena. La meta di Ono San Pietro Possiamo raggiungere il rifugio Baiteseo sia percorrendo una comoda mulattiera che un altrettanto agevole sentiero. La pendenza in alcuni punti è discreta, ma nulla di troppo impegnativo e in due ore circa siamo arrivati al rifugio. Vicinissimo al rifugio e sicuramente da visitare, la località Prato di Natù, un bellissimo punto panoramico. Ono San Pietro Ono San Pietro Ono San Pietro Se vuoi supportarci, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti porteremo con noi in altri rifugi e percorsi di montagna.